nel video di oggi vi farò vedere tre idee per una colazione semplice veloce sana vegana e se vogliamo anche paleo penso che tutte le ricette siano paleo penso quindi non avete veramente scuse per non mangiare sano o comunque sia per fare una bella colazione ricca di tutti i macronutrienti e che vi soddisfi anche dal lato del gusto perché si sa che serve anche quello queste ricette potete farle benissimo la mattina se avete un po più tempo altrimenti vi consiglio di farle comunque sia la sera prima perché ci sarà da cuocere una o due cose quindi sì se avete tempo potete benissimo farle la mattina stessa o altrimenti la sera sarebbe meglio per l'organizzazione ovviamente potete anche mangiarli come dessert o come merenda io certe cose le mangio anche come pranzo come cena diciamo che siccome sono ingredienti sani potete mangiarli veramente quando più ne avete voglia come vi ho detto sono ricette senza glutine vegane quindi non contengono latte uova burro sono adatte a chiunque come vi ho detto prima sono buonissime quindi senza tirarla troppo per le lunghe io vi lascio subito alla preparazione di queste tre idee per la colazione subito alla prossima Oh no 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 iscriviti al canale Ah 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la notifica ogni volta che pubblicherò qualche video e vi ringrazio per la visione noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao